A Bologna si riunisce l'industria del packaging per il mondo cosmetico. Torna infatti a colorare i padiglioni di Bologna Fiere Cosmopack, il salone più importante a livello mondiale, e si rivolge alla filiera produttiva della cosmetica. L'evento che rientra all'interno del manifesto Cosmoprop Worldwide Bologna si occupa di tutti gli aspetti del packaging per il beauty, dalle materie prime agli ingredienti che compongono i formulati, dalla produzione contoterzi al confezionamento, dagli applicatori ai macchinari fino alle soluzioni chiavi in mano. In esposizione generale a Cosmoprof ci sono oltre 2.900 aziende, in arrivo da 64 paesi, con un 60% di provenienze dall'Europa. Oltre 50 sono i paesi di origine dei buyer registrati all'evento e grazie alle collettive nazionali nuovi paesi come l'Irlanda si affacciano per la prima volta alla fiera. Cosmopack invece riunisce nei padiglioni predisposti il 17% delle aziende presenti alla fiera, con una rappresentanza di 38 paesi diversi. La novità 2023 di Cosmopack è certamente la Ingredients Zone, una nuova area espositiva dedicata ai produttori e ai distributori di materie prime, principi attivi e ingredienti funzionali, oli essenziali, fragranze e servizi di formulazione, in modo da ottimizzare il networking commerciale con i principali terzisti leader a livello mondiale presenti. A questo si aggiunge la rinnovata edizione di Cosmo Factory, che si presenta come una installazione dove si può sperimentare l'intero ciclo di vita di un prodotto cosmetico, scelta delle materie prime, lavorazione, processi di produzione, fino al posizionamento di mercato, il tutto con garanzia di tracciabilità.